Babbo Natale è il migliore però al ponzone Cosa hai detto? Posso regalo, posso regalo, posso regalo, posso regalo, posso regalo Ciao a tutti dal vostro caro Max RRRRANDOM Anzi forse è meglio dire Benvenuti in questo nuovissimo video di Max Natale Babbo Sì vabbè avete capito Oggi ragazzi siamo qui su Fortnite Perché siamo diventati Babbo Natale Perché andremo a fare regali a dei miei fan Poveri Perché non possono permettersi skin e roba del genere Come potete vedere ho scioppazzato come un maiale lì sopra Ci sono 4550 V-Bucks Ma penso che aumenteranno nel corso del video Però ragazzi intanto qui abbiamo la prima vittima qui in lobby Ma prima di continuare nel frattempo vorrei scegliere una skin simile a Babbo Natale E so già che skin prendere Eccola qui Ve la ricordate questa skin che si trasformava in Babbo Natale? Bellissima cavolo Fantastica Ok nel frattempo direi anche di arrivare a 10.000 like per questo video E iscrivervi tutti quanti nel canale se volete ricevere da Babbo Max un bel regalo su Fortnite Allora andiamo nel negozio oggetti per vedere se effettivamente c'è qualcosa di interessante Da poter scioppare per aumentare i V-Bucks Vediamo un po' C'è il pacchetto da 4 euro E lo compra subito così aumentiamo e arriviamo pure a 5.000 V-Bucks Vai 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 si scioppa oggi Eccoci qua Oh intanto abbiamo pure spettacolo Oh intanto abbiamo pure spettacolo questa skin che è fantastica che tra l'altro l'avevo Oh partito Oh partito è un po' E perché non lo aggo? Perché io sono molto all'avanguardia mio caro bambino Pippo Fragola Oh 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 volevo sapere una cosa da te Intanto potresti darmi un pompa? Intanto qui c'è un tipo che sta scappando Oh 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 Babbo Killer lo ammazzerà Babbo ma che ci fai qui? Allora esisti? Non ci credo Ovvio che esisto Però volevo farti una domanda Mio caro Pippo Fragola Quanti anni hai? 9 Bene età giusta E volevo dirti una cosa Hai fatto il bravo bambino quest'anno? Sì ho fatto tutti i compiti Ho fatto tutto Ma sei sicuro? Potremmo metterlo nella lista nera Ti prego no non ritenerlo Allora io ho fatto i compiti Ho spazzato Allora ok Allora ti credo Però per essere sicuro che tu sei un bravo bambino E credi nella magia del Natale Adesso dovrai chiamare tua mamma E dirle che stai parlando con Babbo Natale Ma? Ma? Sto parlando con Babbo? Babbo Natale? Ha detto che sono un fallito E Babbo Natale non resiste Ho 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 Ma questa è una disgrazia Ma l'importante è che tu credi nella magia del Natale Jingle bell Jingle bell Jingle Doei Babbo Natale Il miglior Però Il pontone Cosa hai detto? No Non ho detto nulla Hai usato dire che è la mia pancia fatta di Corpi di elfi mangiati Grande? No babbo Allora secondo me tu sei un bravo bambino Sì Cosa hai chiesto per Natale quest'anno? Un po' di cose ma poche poche Lo giuro poche poche L'iphone 12 E lo skateboard Le patatine I popcorn Alla faccio delle poche cose Ho 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 Aspetta non siamo ancora all'inizio La play 5 Il nuovo pc Il joystick Le cuffie La fotocamera Però babbo Natale oggi è bravo Perché la befana si è comportata bene He 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 In che senso babbo? Sei ancora piccolino per capire Ho 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 Però voglio farti un regalo Cosa? Ti piacciono le nuove skin nello shop di oggi Ho 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 Oh certo sono fissime Infatti le volevo chiedere per Natale Solo che sono uscite oggi Ok, allora sono qui pronto per farti un regalo Non ci credo, salto la poverice Adesso ho la scala, me la faccio lunghissima e mi butto giù Volevo le tue renne Le renne le posso usare solo io, mio caro Pippo Fragola E vabbè, dopo questo gesto di rispetto nei confronti del Natale Andiamo a farti un regalo Oh oh oh, che cosa vorresti nello shop di oggi? Vorrei tanto una cosa che costa un sacco, 800 v-book Cioè? Operazione Zamaione Va bene, e che il regalo sia per te Eccoti qua, invia Pippo, invia Volevo dirti una cosa, grazie, ciao ciao Ma no Ma ragazzi, avete sentito? Ma dai, gli faccio il regalo e se ne va Ma di te mi sento male Ok, primo regalo del giorno fatto Passiamo con il secondo Oddio Max, oddio Oh oh oh, io non sono Max Io sono Babbo Natale E qui al mio fianco c'è anche una renna Poi renna, nutrisci Oddio Babbo Natale, oddio Oh oh oh, hai detto bene ragazzo mio Sono io, Santa Claus Ma tu quest'anno hai fatto il bravo bambino? Sinceramente no Come no? Eh, ho preso tanti brutti voti Ho picchiato persone Ho insultato i miei prof Tanta roba Ma come hai picchiato persone? Oh oh oh, sai che non si fa? Eh, vabbè, ho sbagliato Prima di te lo l'anno prossimo Ma tu sei proprio un mandrillone Ma chi te l'ha insegnata l'educazione? Oh 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 Quest'anno mi sai che riceverai il carbone Sì sì No Babbo il carbone no Dai, ti prego, ti prego, ti prego Faccio un provo Il carbone no Ma sei sicuro che fai il provo? E allora provami che ami il Natale Aspetta un attimo che qui c'è della gente Devo un attimo killarla Oh 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 So che non si dovrebbe Ma questo è un videogioco quindi sì Posso dimostrare ti chiamo il Natale Perché so cantare la canzone di Napale Con le scorreggie Con la bocca Ma che cosa Sbarazzina Me la faccia sentire Jingle 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 All the time You missed way Non lo so All the safe Abbonatore ha bisogno di riposo Quest'anno niente regali per nessuno Posso regalo? Posso regalo? Oh 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 Statti un attimo zitto Posso regalo? Posso regalo? Posso regalo? Oh 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 Altro che il regalo Ti tiro una sberla Oh oh Ah posso regalo? 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 Oh 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 Va bene Oh oh Te la do soltanto perché così te ne vai È l'anno prossimo carbone No, no, è l'anno prossimo noi Che skin vuoi nel negozio oggetti, mio caro Franci? Mi potresti regalare l'assassino artico, è bellissimo È bellissimo Va bene, ma solo perché Babbo Natale è un bravo signore Ovviamente Franci, che supporta un creatore usi nello shop? Uso il codice MR-MAXRANDO Bravo Franci, bravo, così mi piace Andiamo in regalo giallo e inviamo Altro regalo fatto Babbo Natale, ti ho scammato No ragazzi, io non ci posso credere, io non ci posso credere Ho speso 1200 V-Bucks per questo essere Dai, almeno era povero, abbiamo fatto un atto di bene perché non aveva skin e non aveva nulla Era livello 1 di tutto e non aveva nulla Una persona migliore, no? Quasi, quasi, chiamiamo un mio amico Mate, lo conoscete tutti quanti Per farci perdonare da un troll fatto in precedenza che avete visto sicuramente Oh Max, una renella la vogliamo fare? Oh, 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 oh E questo con la vociola da maschione è un pedofilo? Io non sono un pedofilo, io sono Babbo Natale No, io non ci credo, Babbo Natale, secondo me tu hai carato l'account di Max Io sono nell'account di Max per fare doni a tutti i suoi amici e fan Tu sei stato un bravo bambino quest'anno? Beh, diciamo che ho avuto qualche battibecco con la pula Oh, 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 oh Che cosa hai combinato per avere un battibecco con la pulizia? Eh, diciamo che ho rubato 5 gol ad ora nel panificio sotto casa Ma tu sei, come si dice dalle parti di Napoli, un mariolo Oh, oh, oh Eh, scusa, ma che significa mariolo? Ladro! Ma no, dai Babbo, quest'anno mi comporterò bene, te lo giuro Io mi sento buono oggi, perché come ho già detto prima, un altro amico, la Befana, è stata brava oggi Vero, piccolo Babbo? Mate, che scrive vuoi nel negozio oggetti? Oh, oh, oh Eh, Babbo, mi piacerebbe tanto come andate scarlato, cioè, vedi quante figa Babbo Natale apprezza questi tipi di donne molto formose Quindi Babbo Natale ti andrà a fare il regalo Ok, continuo, mettiamo il regalo rosso per te e inviamo Oh, 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 regalo inviato No, Babbo, tu sei veramente un grande, però, cioè, mettiti un po' dietro Oh, 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 oh Babbo Natale adesso si incazza Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh n' Oh, oh, oh